Si tratta del modello più grande d'Italia, realizzato da Bertele Electronics, con una struttura ottagonale, quattro maxischermi centrali, altrettanti angolari, per una superficie totale di 136 metri quadri di schermo ad alta definizione. Il nuovo videocubo è stato inaugurato questa mattina alla Vitri Frigo Arena, pronto a svelarsi nel match domenicale della VL contro Brindisi. Poi amplierà lo spettacolo della Final 8 di basket, in programma al Palace Sport dal 13 al 16 febbraio prossimi. 300 mila euro è l'investimento per la realizzazione del nuovo maxischermo, di cui 120 mila ottenuti dalla VL tramite la Lega Basket. Il nuovo cubo, entrato in funzione all'interno dell'astronave sportiva pesarese, è stato inaugurato con la proiezione del video promozionale Pesaro Città da Mare. Abbiamo rifatto la copertura, abbiamo sostituito tutti i seggiolini, sistemata la palestra Nord e questo investimento è fondamentale perché consente di interagire con tutti gli eventi che si svolgono all'interno del Palace. Sono innovazioni che servono e siamo una città che sta investendo molto per crescere nel turismo, per crescere nel turismo sportivo, dei convegni, dei grandi eventi. Abbiamo una struttura unica in Italia, da oggi ancora più moderna e ancora più funzionale. La Vitrifrigo Arena compie un ulteriore salto di qualità, aggiunge il presidente Aspes Luca Pieri. Il video è dotato di un software che consentirà di rendere le tante iniziative più coinvolgenti per il pubblico. Tutto quello che c'è di elettronico nell'arena, conclude del presidente in conferenza, si combinerà con lo schermo.